Come resistere al delicato profumo della lavanda e a caratteristici fiori lilla che questa pianta ci regala? La lavanda è una pianta di facile coltivazione sia in giardino in piena terra che in vaso, in balcone o terrazzo. Bastano dei piccoli accorgimenti per avere piante rigogliose con un colore verde intenso delle foglie e un delicato profumo dei fiori. Vediamo come fare. Prima di tutto andremo ad effettuare il rinvaso una volta acquistata la pianta o negli anni successivi quando è molto sviluppata. Utilizziamo un terriccio universale Garten Torfi, un terriccio soffice ricco di sostanza organica. Sul fondo del vaso metteremo sempre dell'argile espansa per evitare eventuali ristagni idrici che possono danneggiare la pianta portandola a dei marciumi. La lavanda è una pianta perenne sempreverde a forma cespugliosa che raggiunge ridotte dimensioni. Predilige un'esposizione soleggiata e ben ventilata. La maggior parte delle varietà sono resistenti al freddo invernale e ai caldi torri di estivi. Sopportano molto bene anche la siccità. La lavanda fiorisce in genere dalla primavera all'estate e caratteristici sono i fiori a forma di spiga, all'interno dei quali sono contenuti dei piccolissimi fiori di vario colore che va dal rosa al lilla. La lavanda non gradisce terreni umidi, per cui tra un'irrigazione e l'altra è molto importante far asciugare il terreno. Questo perché altrimenti si potrebbero formare dei ristagni idrici che portano alla marcescenza delle radici. Molto importante per la lavanda è la potatura. La pianta va potata ogni anno dopo la fioritura all'inizio dell'autunno. Se siamo in presenza però di climi molto freddi e umidi, questa operazione la possiamo effettuare anche in primavera. Le piante un po' debilitate e poco compatte possono essere sottoposte a una potatura più drastica e in questo caso andremo a lasciare proprio lo stelo a pochi centimetri dal terreno. L'anno successivo avremo quindi le piante più compatte con più fiori e foglie. Per favorire la produzione di piante vigorose con molti fiori dai colori brillanti e profumati, concimiamo con asso di fiori e gran verde oro. Possiamo associare i due concimi alle dosi riportate in etichetta, scioglierli in acqua e nebulizzare le foglie. Quest'operazione la ripeteremo ogni settimana nel periodo vegetativo della pianta. La lavanda è una pianta molto soggetta ai marciumi radicali o basali. I marciumi sono causati da funghi, spesso favoriti da irrigazioni eccessive o da ambienti particolarmente umidi. Andremo quindi a prevenire lo sviluppo di questi marciumi trattando con promag funotto. Andiamo a diluire la dose indicata in etichetta in acqua e con tale soluzione andremo a irrorare il terreno. E ora una curiosità. I fiori di lavanda mantengono, come sappiamo, a lungo il profumo e per questo sono molto utilizzati per profumare la biancheria o i cassetti. Il periodo migliore per essiccare i fiori e conservarli è il periodo della massima fioritura, quindi l'estate. La raccolta deve essere fatta raccogliendo sia l'infiorescenza che parte dello stelo. Andremo poi a legare questi mazzetti di fiori a testa in giù, in una zona ombreggiata e non al sole, in quanto il sole potrebbe far scolorire i fiori. Una volta che i fiori sono secchi li separiamo dagli steli e li conserviamo in dei sacchettini di tessuto.